Abbiamo parlato anche in questo caso, la scaletta viene da sé, si è parlato di problemi sul lavoro, si è parlato di INAIL, a questo punto si parlerà anche di prevenzione, il ruolo dell'INAIL in questo settore. Lascio la parola al dottor Tommaso De Nicola, direttore vicario direzione centrale prevenzione INAIL. Grazie, ecco, so che il suo intervento si parlerà proprio della prevenzione. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio Ancors e Conf Associazioni per il cortese invito e porto anche i saluti del direttore centrale Esther Rotoli. Vediamo insieme una panoramica, ovviamente breve e sintetica, di quelle che sono le principali attività in concreto svolte a livello centrale e territoriale da INAIL per contribuire allo sviluppo e alla diffusione della cultura, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Cominciamo dalla strategia europea, ci muoviamo in un ambito ovviamente comunitario e questi che vedete qui illustrati sono i principali obiettivi strategici e i tre pilastri della strategia europea 2021-2027 che si fondano essenzialmente sulla gestione del cambiamento dei mutamenti demografici, climatici e quant'altro del miglioramento delle misure di prevenzione a livello nazionale e ovviamente anche del miglioramento di quelle che sono le risposte dei singoli Paesi membri rispetto ad eventi improvvisi ed imprevisti quali la pandemia del 2020. rispetto a questi pilastri e questi assi fondamentali della strategia europea come si muove il nostro Paese? Allora dobbiamo cominciare col dire che purtroppo l'Italia è uno dei pochi Paesi a livello comunitario a non essersi ancora dotata di una strategia nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Negli ultimi mesi sono ripresi diciamo i tavoli nei due comitati deputati alla predisposizione della strategia che sono la commissione consultiva prevista articolo 6 del testo unico che è una commissione tripartita dove sono rappresentati sia gli enti e le istituzioni competenti in materia che le parti sociali sia lato datoriale che organizzazioni sindacali dei lavoratori. e poi il comitato ex articolo 5 che è il comitato di indirizzo su quelle che sono le politiche di prevenzione e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro che sarà poi chiamato all'approvazione del documento strategico e noi stiamo collaborando col Ministero della Salute e col Ministero del Lavoro per la predisposizione di questo documento che dovrà fondarsi e questa è la proposta che abbiamo formulato su sette assi, sette pilastri fondamentali. i primi due dovranno prevedere un ruolo attivo dell'istituto, in particolare mi riferisco al rafforzamento del sistema istituzionale del dialogo sociale e alla prevenzione primaria e allo sviluppo della cultura della prevenzione. In quale misura dovremmo dare, dovremmo fornire il nostro contributo? Per quanto riguarda la prevenzione primaria ovviamente con un sempre maggior sostegno anche economico, anche finanziario alle imprese italiane che intendono investire in sicurezza, a cominciare dalle piccole e medie imprese che sono quelle più deboli, meno attrezzate da questo punto di vista. Il sostegno alle parti sociali e al mondo della bilateralità e della parititicità, il rafforzamento del sistema della formazione a cominciare dall'ambito scolastico e interventi concreti, interventi operativi, vedremo poi cosa stiamo facendo, per la riduzione dei rischi professionali in alcuni settori particolarmente critici. In questo senso non posso che riferirmi ai cinque settori prioritari che sono stati già individuati dal Piano Nazionale della Prevenzione Sanitaria approvato dal Ministero della Salute nel 2020. Vale a dire l'agricoltura e l'edilizia che sono i due comparti produttivi che continuano a registrare in percentuale il maggior numero di infortuni gravi e mortali. La prevenzione delle patologie muscoloscheletriche. Ricordo a riguardo che oltre il 60% delle denunce di malattie professionali presentate all'INEL riguardano i disturbi muscoloscheletrici. la prevenzione dei tumori professionali e la prevenzione dello stress, lavoro correlato. Per quanto riguarda poi il rafforzamento del sistema istituzionale e del dialogo sociale è evidente che qui ha un ruolo fondamentale la diffusione della conoscenza. La conoscenza in materia di prevenzione si diffonde mediante lo scambio di dati, la messa a disposizione dei dati da parte di tutti gli enti competenti in materia. e vedremo poi quali sono le più recenti novità in materia di SIMP e di Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione. Altro strumento per rafforzare il sistema istituzionale e il dialogo sociale è la semplificazione della normativa che non significa cancellazione di adempimenti ma far sì che tutti i datori di lavoro, anche quelli meno attrezzati, siano in condizione di adempiere a quelli che sono gli obblighi previsti dal testo unico in materia. E' stato grande l'impegno dell'INEL nel corso dell'emergenza pandemica, ricordo la valutazione, la primissima fase della pandemia, la valutazione e l'omologazione in deroga delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale, il supporto al comitato tecnico scientifico e la sorveglianza sanitaria eccezionale, che è un'attività che l'INEL sta continuando a svolgere pur essendo concluso il periodo emergenziale in quanto il legislatore ha prorogato fino al 30 giugno questo istituto che consente a tutti i datori di lavoro pubblici e privati non dotati, che non hanno nominato il medico competente, di rivolgersi alle strutture INEL del territorio per far sì che venga svolta la visita di sorveglianza sanitaria per i lavoratori cosiddetti fragili, cioè quelli maggiormente esposti al rischio di contagio e a conseguenze più gravi per il contagio da Covid-19. Direttore, le chiedo gentilmente se può velocizzare perché abbiamo altri relatori, non me ne voglia ma il tempo è piano. Due minuti, davvero due minuti. Grazie mille. Concludo con i bandi ISI. Dal 2010 ad oggi abbiamo messo a disposizione del sistema imprenditoriale italiano oltre 2 miliardi e mezzo di euro per far sì che tutte le imprese, a cominciare dall'IPMI, siano messe in condizione di avere un supporto per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'ultimo bando ISI pubblicato a dicembre 2021 ha ampliato i settori di intervento e prevedendo, ma ciò avviene già dal 2016, anche dei contributi per le aziende agricole per la sostituzione e l'acquisto di trattori e macchine agricole. Ritorno al discorso di agricoltura come settore, tra virgolette, critico, nevralgico a questo riguardo. Volevo concludere con le iniziative assunte dall'INEL per la scuola, diverse iniziative anche nel periodo pandemico. Ne voglio citare una in particolare, si tratta del progetto Green Safety realizzato congiuntamente al Ministero del Lavoro e al Ministero delle Politiche Agricole che ha consentito a centinaia di studenti degli ultimi anni degli istituti agrari di essere aiutati a testare e provare l'utilizzo delle macchine agricole e dei trattori con ciò formandoli ad un'attività successiva che presenta particolari elementi di rischiosità e di pericolosità. Una panoramica breve, avrei avuto tante altre cose da dire, ma vi ringrazio comunque per l'attenzione. Grazie, ringrazio. Sicuramente in una delle prossime occasioni avremo modo di parlare.